No, no, la stendi, altrimenti... Scusa, ma non la possiamo vedere in dieci minuti? Mi devi dire subito, a mangiare subito, pensate... No, no, per me... La mamma che mi ferma cinque minuti... Dieci minuti e ce l'abbiamo... Io voglio dire come... Ma la mamma che fa una mattina pazzesca... Eh? Se c'entrava quel gollo, quello che si è, a girare... A girare... La girare... Ah, no, non va, perché... Non sa di niente saresti arrivato... E' solo? Sì, sì, sì... Sì, sì... Sì, sì... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì, vabbè, vabbè! Grazie per la visione! Grazie per la visione!